Il Consiglio di Stato ha accolto per la seconda volta il ricorso del PM di Bari Renato Nitti contro la nomina procuratore di Trani del collega Antonino Di Maio. I giudici hanno dichiarato l'annunità della delibera del Consiglio Superiore della Magistratura per elusione del giudicato. Ai giudici amministrativi il magistrato barese, difeso dagli avvocati, Aristide Police e Vittorio Trigiani, si è rivolto lamentandoli in ottemperanza da parte del CSM della precedente pronuncia del Consiglio di Stato dell'ottobre 2018 che aveva già ravissato vizi di legittimità per eccesso di potere nel provvedimento di nomina di Di Maio. La questione tornerà quindi all'attenzione del CSM che dovrà procedere alla nuova nomina. Nitti aveva impugnato la nomina dinanzi al Tar del Lazio che gli aveva dato torto e poi in appello dinanzi al Consiglio di Stato che invece aveva accolto il ricorso.